Cosa prevede il progetto di Enel Open Innovation? Allora, Enel da qualche anno ha iniziato questa nuova strategia di Open Innovation perché diciamo che in un mondo che sta cambiando, in un mondo dell'energia in particolare che sta cambiando abbiamo la volontà di trovare soluzioni per tutta questa disruptive technologies e tutte queste cose che stanno arrivando per cambiare il mondo dell'energia e noi lo vogliamo fare aprendoci al mondo esterno. L'innovazione arriva da tutte le parti ormai, non è più una cosa come nei vecchi tempi in cui si investivano soldi in ricerca e sviluppo e innovazione incrementale passo dopo passo ma ci sono tante tecnologie che vengono inventate anche all'esterno di questi grandi centri, di questi grandi corporate e quello che vogliamo fare noi è proprio aprire noi stessi, aprire l'Enel all'innovazione insieme a start-up, insieme a piccole e medie imprese, insieme ad altre aziende, insieme ad università questo è quello che noi chiamiamo Open Innovation. Cosa vi aspettate di trovare qui in Puglia? Beh, sicuramente trovare qualche start-up, qualche piccola e medie imprese con cui collaboriamo alcune tra l'altro con cui collaboriamo in altri ambiti, diversi da quelli per cui stiamo lanciando questa call ci sono, c'è un buon tessuto imprenditoriale anche qui in Puglia come anche nel resto dell'Italia vogliamo semplicemente cercare di capire se anche su queste tecnologie su cui abbiamo lanciato questa call specifica ci sono delle opportunità di collaborazione. Quali i requisiti che devono avere imprese e start-up per poter collaborare in questo caso con Enel a questo progetto? Sono start-up o anche società che lavorano in campi di interesse nostro, cioè tipicamente parliamo del campo di interesse la parte energia e queste società devono avere dei progetti in uno stadio di sviluppo già provato in qualche modo che vengano poi accelerate da noi utilizzando e valorizzando quelli che noi abbiamo come asset, come equipment, come laboratori proprio per provare in campo a livello industriale quello che loro ci propongono in termini di tecnologia. Quali sono i vantaggi poi per queste aziende o start-up che sceglierete? Le varie società possono intanto accedere ai nostri laboratori, al nostro network internazionale, agli altri innovation hub e lab presenti in tutto il mondo e in particolare per quelle che sceglieremo come sviluppo qua in Italia possono essere ospitate nel nostro lab di Passo Martino a Catania lì sviluppare il progetto fisicamente utilizzando anche il know-how e gli equipment che noi abbiamo sul posto e più in generale però possono poi accedere agli innovation hub di Enel in tutto il mondo per cui quello che loro poi dimostrano con noi, sviluppano con noi a livello industriale può essere preso innanzitutto da Enel all'interno ma soprattutto venduto sul mercato e magari possono anche raccogliere fondi sul mercato grazie al prodotto sviluppato con noi. Cosa prevede questo percorso di accelerazione? Il percorso parte dall'iniziativa dell'Enel che ha avviato un processo di innovazione aperta quindi il gruppo sta selezionando delle start-up ma anche delle piccole e medie imprese che vogliono entrare nel sistema dell'Enel soprattutto in quella che è la capacità dell'Enel di inserirli nella propria rete commerciale. Quindi il primo obiettivo è quello di selezionare dei fornitori di tecnologie innovative del futuro. Noi che siamo associati ad Enel, il consorzio Arca che opera sul territorio siciliano dove questo hub di innovazione prenderà forma accompagneremo queste aziende in un percorso di crescita dal punto di vista della costruzione della propria catena di fornitura che è uno dei problemi principali che queste aziende hanno nella loro fase di start-up di ricerca di fonti di finanziamento per riuscire a fare gli investimenti per far maturare le tecnologie dalla condizione attuale fino a una maturità piena che consenta l'utilizzo pienamente industriale e supporteremo gli imprenditori nel far maturare il team anche potenziando le relazioni internazionali. Quali sono i vantaggi a cui poi vanno incontro le aziende o anche le start-up? La grande proposta di valore di Enel è di selezionarli come fornitori. Quindi l'impresa, l'azienda nelle sue diverse attività internazionali che hanno fortemente potenziato il tema delle rinnovabili Enel ha fatto investimenti imponenti negli ultimi anni acquisendo impianti e realizzando impianti in tutto il mondo e proprio per sviluppare questo settore ha bisogno di nuove tecnologie. Quindi le imprese selezionate innanzitutto diventeranno un componente dell'offerta del gruppo a livello internazionale. Il mercato non sarà limitato per quella che è la volontà del gruppo Enel soltanto al mercato interno, cioè a quello degli impianti del gruppo ma l'impresa avrà poi la possibilità di sviluppare la sua rete di clienti. Infine entrerà in contatto con investitori che sono vicini al mondo Enel e che sono interessati ad investire in imprese che sono state validate dal gruppo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!